Salvaguardare, valorizzare e promuovere il Parco dell'Arno. È con questo obiettivo che un gruppo di volontari si è messo assieme e rimboccato le maniche per ripulire le sponde dell'Arno. Una trentina, infatti, cittadini che domenica, guanti e sacchi alla mano, sono scesi in campo per l'iniziativa Puliamo il Parco dell'Arno, nata da un'idea di Gualberto Gualdani e Donato Caporali. Si è partiti proprio da Ponte Buriano, lo splendido ponte romanico che fa da sfondo alla Gioconda il capolavoro di Leonardo da Vinci, al quale è dedicato il busto di marmo che si trova sulle sponde del fiume. La volontà dei volontari sarà quella poi di costituirsi in un'associazione per valorizzare sempre più il tratto che va da Giovi alla Diga della Penna, una promozione che comprende anche il riportare in vita il tranino delle meraviglie. La speranza è quella di dare sempre più vita, portare un numero maggiore di visitatori e tenere soprattutto alta l'attenzione su uno degli scorci più suggestivi dell'aretino che ospita il ponte romanico ancora in attesa della conclusione del suo restauro conservativo.